Diego Mecocci si parte in eccellenza quest'anno da neopromossa e probabilmente tra una delle squadre che ha allestito la squadra in modo abbastanza interessante. Sicuramente la squadra sono stati comprati molti giocatori nuovi, molti giocatori da categorie e di categoria che uniti un po' allo statura, allo zoccolo dure dell'anno scorso, visto che abbiamo fatto molto bene in promozione, cercheremo di elevarsi il più possibile un po' di soddisfazione. Cosa ti aspetti da questo campionato d'eccellenza rispetto alla promozione? Più tecnica, più grinta, più cosa? Sicuramente un altro passo, ci sono più allenamenti, ci sono giocatori più esperti, giocatori di categoria quindi sicuramente sarà tutto un altro campionato. Un campionato d'eccellenza che vede quattro derby, come ho chiesto al capitano, chiedo anche a te e qual è quello che ti aspetti con più ansia? Andare a giocare a San Giovanni, sicuramente davanti a magari 3-4 mila persone, sarà un'emozione anche perché noi non siamo abituati, si viene da un paese piccolo e siamo abituati al calcio un pochino più in piccolo. Cercheremo di fare il nostro meglio ovunque. Anche se avete un seguito abbastanza importante, ci sono tanti affezionati che vi seguono in casa ma penso che a San Giovanni verranno ben volentieri. Certamente, quello è ovvio. Cosa ti aspetti da questa stagione? Una stagione a fari spenti ma per fare bene? Cercheremo di fare il meglio possibile, salvarci il prima possibile e poi se avverrà qualcosa di più si va meglio. Bocca al lupo per la stagione. Grazie mille, anche voi.